Allora Miro, che succede oggi in questa città meravigliosa? La città è meravigliosa, il tempo è un po' freschetto però, ma che ne so che succede? Ci dovrebbe essere una pedalata per la vita, speriamo bene. Da quanti anni dura questa idea? Ma dunque, ho guardato, sai come ho fatto per sapere da quanti anni è? Ho guardato quando sono nati i telefonini portateli, no? Perché Gerry Calat ci aveva arrivato con un Porsche, ha portato una valigetta con il telefono. E erano proprio i primi, i primi, ho visto nel 75 mi sembra, nel 75. Tu pensa, adesso è ritornata di moda la bicicletta, è fantastica le mode che ci sono. Io tornerò di moda? Chi lo sa, lo vedremo fra qualche ora. Ciao! 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 Com'è andata questa pedalata? Ma ti devo dire è andata ogniosa spettativa. sinceramente avevo paura in un ambiente che io riconoscevo organizzata in poco tempo e pensavo che qualcosa non potesse funzionare invece ho visto una gran bella partecipazione sia di numero che di entusiasmo sono tutti iscriviti al canale